povera misce stasera parlo in terza persona perché è veramente tosta cioè io sono l'unica svizzera che è venuta a fare il pieno in italia io all'italia devo tutto il mio cuore e la mia anima che appartiene a questo paese eppure non posso negare di aver avuto un ottimo imprinting una bellissima infanzia in quel meraviglioso paese della svizzera per cui io stasera diciamo che è così se vinci l'italia sono felice di più cioè sono la prima a festeggiare se vinci la svizzera non è che sono triste capito cioè basta affrontare sempre la cosa in una maniera positiva